La Fano dei Cesari per molti un capitolo chiuso, non per voi che la volete a gran forza. Assolutamente no, noi con questa mozione che abbiamo presentato in Consiglio Comunale come Luca Serfilippi, Davide Del Vecchio, Stefano Mirisola, Marianna Magrini e Gianluca Ilari chiediamo a gran voce di ripristinare la Fano dei Cesari. Abbiamo presentato degli emendamenti in sede di bilancio che questa maggioranza ci ha bocciato, sappiamo che ci sono dei tavoli, degli incontri, oggi a fine marzo è ora che la giunta si decida se vuole ripristinare la Fano dei Cesari come era, quindi con la corsa delle bighe perché altrimenti non ha senso farla e con l'organizzazione di tutte le associazioni di categoria, le associazioni di cittadine, di tutti i quartieri della nostra città. Noi crediamo che la Fano dei Cesari debba diventare l'evento di punta dell'estate della nostra città, non solo dal punto di vista turistico ma anche culturale e non solo della nostra città ma anche di tutta la vallata del Metauro perché la vallata del Metauro è ricca di reperti romani. Quindi con questa mozione impegniamo il sindaco sin da subito a creare una cabina di regia con la colonia Iuda Fanestris e la Proloco che sono le due realtà che sicuramente possono ben coordinare questa manifestazione ma anche creare subito dopo un tavolo di coordinamento con tutti i comitati di quartiere, con tutte le associazioni di quartiere, ACLI, ARCI e le varie parrocchie coinvolgendo anche l'Università di Urbino per quanto riguarda la romanità che è sicuramente il filone che dobbiamo sfruttare di più come città di Fano insieme anche come stanno facendo per i Malatesta però la romanità è la cosa più importante che ci caratterizza come città. Quindi con questa mozione chiediamo al sindaco e alla giunta di trovare 150.000 euro per permettere alle associazioni di organizzare questa manifestazione, di creare subito un tavolo di coordinamento con le associazioni e anche con i sindaci della vallata perché sicuramente questa iniziativa non deve durare uno, due, tre giorni ma deve sicuramente durare per tutta l'estate e l'evento clou si dovrà sicuramente tenere nel mezzo dell'estate di quest'anno naturalmente anche negli anni a seguire e con la famosa Corsa delle Bighe che ha animato in questi anni tantissime persone della nostra città.